Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI, per lavori di miglioramento della sicurezza, 3 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno. Sempre in FIPILI, coda in uscita la Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per quanto riguarda le autostrade in direzione Pisa, code sul bivio A1-11 provenendo da Roma e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est. Sempre in A11, code tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!